Ci sarà ancora un mese di tempo per usufruire dell'agevolazione straccia a bollo della regione siciliana. A renderlo noto è l'assessore regionale all'economia Marco Falcone. È una misura che era già stata decisa dal governo regionale, affermo Falcone, anche perché il differimento del termine di pagamento è stato molto apprezzato dai contribuenti siciliani e adesso lo stiamo estendendo almeno fino al prossimo 31 dicembre. L'obiettivo che ci eravamo prefissati, sottolinea Falcone, può dirsi già raggiunto. Nel solo mese di novembre 2022 gli incassi da bollo auto per la regione sono aumentati del 255% rispetto a novembre 2021 e in appena due mesi abbiamo registrato oltre 183.000 pagamenti. Significativi dunque i vandaggi in termini di riscossione per i nostri uffici, ma soprattutto in termini di concreti risparmi per i cittadini siciliani volenterosi che ancora in questo momento affollano gli sportelli appositi. Alla data di ieri gli incassi della regione, soltanto nel mese di novembre, hanno toccato i 32 milioni di euro. Secondo le prime rivelazioni parziali, il netto aumento rispetto ai 9 milioni incassati a novembre 2021. Il governo Schifani, aggiunge Falcone, inserirà inoltre nelle prossime variazioni di bilancio la possibilità di rateizzare i debiti superiori a 5.000 euro senza sanzioni e interessi. A introdurre la misura stracciabollo era stata la legge regionale 16 dello scorso agosto.